Il ruolino di marcia dei padroni di casa recita una vittoria, due pareggi e una sconfitta. Gli ospiti invece non hanno ancora conosciuto alcun KO, due successi e due pari. C'è però un elemento in comune, entrambe negli ultimi tre turni di campionato sono imbattute. Buon pomeriggio da Luca Pellegrini della Giovane Italia e benvenuti al Centro Sportivo Sant'Andrea di Tombolo per Cittadella Atalanta, quinta giornata del campionato Under-17. Passiamo alle formazioni partendo da quella dei padroni di casa, due novità rispetto all'ultimo weekend. Marinello al posto di Beghetto e Librizi al posto di Kogo. Rispondono gli ospiti con tre volti nuovi rispetto alla gara contro il Milan, Torriani al posto di Sala tra i pali, poi Ndongue e Camarà al posto di Ragnoli e Carbet in avanti. Viene chiamato lo schema, parte la traiettoria spizzata sul secondo, ci arrivano in due, squizzato, fa un miracolo! Ma non può niente, sul tapin a porta vuota di Gaffuri, meno di tre minuti e l'Atalanta la sblocca, 1-0. Piantoni recupera, palla sulla tre quarti, subentra poi Camarà, sono in tre, liberissimi a destra, Camarà larga per Dongue che incrocia, squizzato, para al pallone e rimane lì! E poi squizzato in due tempi lo fa suo. E' abbastanza libero di impostare il Cittadella, che va al lancio lungo, legge bene la traiettoria al B, che al comoda per Gaffuri, sbaglia tutto, Librizi per basso! E il Cittadella fa 1-1 su un erroraccio di Gaffuri, che dopo aver segnato il gol praticamente lo regala agli avversari, pareggio dei padroni di casa. Piantoni alza una mano Bonanomi, che va col mancino in area, messo fuori dalla difesa del Cittadella, che può scattare in contropiede un 3-3, non si capiscono, Ferronato e Basso, però occhio all'opportunità per Librizi! Che segna il 2-1, si scambiano i favori, Basso e Librizi, l'asse però è sempre lo stesso, funziona bene, 2-1 Cittadella. Piantoni con il destro o Bonanomi col mancino? Parte l'8, è una finta, va il 4 e Squizzato alza sopra la traversa. Simonetto fa correre in Dongue, attenzione alla sua velocità, il suono contro 1, si allunga il pallone, lo mette a rimorchio, sta arrivando Bernardello! A botta sicura viene murato, la sfera però è tenuta viva da Simonetto, che la rimette! e Doro se la butta in porta, un errore aveva generato l'1-1 del Cittadella, un altro errore provoca il 2-2 dell'Atalanta, tutto in parità. Palla in verticale per Castiello, sfida di velocità con Doro, si mette in moto il 19, entra in area, Doro fa un grande intervento, ma poi strattona l'attaccante nero-azzurro ed è calcio di rigore inevitabile per l'Atalanta. Fischia l'arbitro, rincorsa arcuata di Camarà, che rallenta, va col destro! E Squizzato lo ipnotizza, l'azione però non è finita, ancora Squizzato su Castiello. Il portiere del Cittadella salva i suoi compagni. Il pallone arriva nei piedi di Torriani, che va al rilancio, e l'arbitro dice che non c'è più tempo. Una partita divertente, combattuta tra Cittadella e Atalanta, finisce 2-2.